Durante una cena con un amico, Alfredo Antonaros, è ritornato fuori questo discorso. Abbiamo pensato, questa volta realizzandola, di fare questo giro dei sapori fatto da grandi cuochi e dai grandi prodotti della gastronomia italiana. Partirà domenica con il primo dei grandi cuochi, Igles Corelli, e proseguirà poi fino a 2015, ad aprile 2015, con grandi nove chef. Saremo fermi tre mesi estivi, il motivo principale è anche quello del fatto che noi vorremmo avere la gente del posto presente alle nostre serate, proprio per far conoscere le produzioni gastronomiche più buone, più interessanti che si presentano in Italia alle persone di Fano. È una grande occasione per trovare non solo questi piatti, non solo questi menù, ma trovare tutta una serie di culture abbastanza diverse, abbastanza articolate, abbastanza radicate in territori estremamente diversi tra loro. Ma questa è la vera grande ricchezza di Italia. Ogni 20-30 chilometri cambiano i dialetti, ma cambiano anche i sapori. Tutto questo a Fano lo racconteremo nell'arco di nove mesi. Abbiamo sposato questo progetto perché lo ritemiamo molto valido, tenendo conto che l'Accademia della Cucina è stata riconosciuta a istituzione culturale della Repubblica Italiana. Quindi il nostro compito è quello di valorizzare e di contribuire a valorizzare le tipicità e i prodotti tipici del territorio. Logicamente sosteniamo quei ristoratori che danno risalto ai prodotti del territorio, alla qualità dei prodotti e alla stagionalità, che sono le tre qualità principali. Abbiamo aderito a questo progetto con molto piacere perché crediamo molto nell'aggiornamento, nella professionalità delle persone che partecipano a questo Giro d'Italia dei Sapori e soprattutto crediamo molto nel far approfondire ai ragazzi le tematiche e anche fare esperienze pratiche a contatto con chef stellati o chef molto famosi sul territorio italiano. Il nostro contributo sarà nel partecipare a queste serate dove i ragazzi si applicheranno con esercitazioni pratiche sia in sala che in cucina e dove saranno a diretto contatto con la realtà che verrà presentata in queste particolari serate.